amici buongiorno sono sulla parte iniziale della pista della riva appena sotto al rifugio della selletta che conosce il posto riconoscerà i luoghi questo è il laghetto artificiale ricavato per poter fare nel periodo in cui necessita la neve artificiale abbiamo in cima l'impianto di arrivo del lovo via ed ancora sulla destra c'è la croce della val di luce dalla parte di là c'è la val di luce in questo meraviglioso contesto in questo bellissimo ambiente tardo autunnale come vedete tutti i colori bruciati tutti i marroni delle piante due parole vorrei esprimerle a titolo diciamo di suggerimento vorrei dire al premio ex nostro perché non è più di nessuno sei stato un uomo di successo hai avuto tutto ciò che la vita può offrire a una persona e forse anche di più hai dimostrato capacità sicuramente direi aggressiva negli affari hai accantonato un cospicuo gruzzoletto però un buon giocatore quale sei stato finora deve capire quando è il momento di lasciare passare la mano questo è il momento in cui te devi lasciare ci in bellezza altrimenti ti rimangi tutto ciò che di bello hai fatto la tua vita ricordati che in questo momento tutte le procure d'italia ti stanno tampinando ai diciamo infranto articoli del codice di ogni genere sono 600 e passate sicuramente sono molti molti meno quelli che non ha infranto di quelli che ha infranto quindi lasciaci in pace dai spazio al popolo italiano dai spazio a chi vuole tornare a sperare ha sperato in te ma te hai fallito e la speranza è andata vana ora loro hanno bisogno di tornare a sperare come il sole dai loro ancora un po di luci come questo sole che si riverbera su di noi arrivederci